Abba Gold è una selezione dai successi del gruppo svedese Abba, uscita in tutto il mondo nel corso dell'autunno 1992. Nonostante la scissata attività del gruppo da diversi anni, il disco conobbe il successo internazionale e l'Italia non c'è eccezione. Ad oggi l'album vanta oltre 26 milioni di copie vendute e figura tra i 40 album più venduti al mondo, spinto anche dal musical Mamma Mia, campione di incassi 2008 con la strepitosa Meryl Streep. Dunque mettetevi comodi, sta per cominciare Abba Gold. Grazie. 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 Grazie.